Scoprire vita e abitudini di Gioacchino Rossini andando oltre la sua celebrata eccellenza artistica e musicale. Poterlo fare in un luogo che fu frequentato dallo stesso Rossini e che da qualche mese è tornato ad aprirsi ai pesaresi dopo anni di restauro. Le settimane rossiniane 2023 arrivano infatti a Palazzo Perticari, grazie al proprietario e mecenate Franco Signoretti, che apre le porte del nobile palazzo che nei primi decenni dell'Ottocento fu dimora di Giulio Perticari e della consorte Costanza Monti che fecero della loro residenza un vivace salotto culturale frequentato da Rossini così come Dantaldi, Petrucci o Giordani. Così dal 28 febbraio, giorno del non compleanno di Rossini, fino al 5 marzo si potranno riscoprire preziosi documenti d'epoca di proprietà della Fondazione Rossini, narrati dalla storica della musica Maria Chiara Mazzi in un progetto accompagnato da Amat e dalle letture della Voce dei Libri. Un luogo nuovo, prestigioso, potete già vedere che cose bellissime che chi verrà potrà vedere o dell'ascoltare Maria Chiara Mazzi in un racconto quasi da sogno perché ci riporterà al periodo di Perticari e Rossini. Una cosa curiosissima, ovviamente non vi svegliamo niente, da lettere proprio autografi di Rossini e anche da ricerche storiche. Questo progetto messo in piedi da Lucia Ferrati, Fondazione Rossini e Palazzo Perticari. Noi dobbiamo ringraziare signoretti che veramente con grande entusiasmo ci ha messo a disposizione questo meraviglioso palazzo e 5 incontri importantissimi perché saranno anche d'orari diversi in maniera che tutti possono partecipare pomeriggio, sera e la mattina dedicata alle scuole. Una settimana veramente bella, intensa e riscopreremo Perticari e Rossini. Molto spesso Rossini veniva in visita alla famiglia Perticari e qui evidentemente si sono svolte delle situazioni di convivialità per cui sentiremo dalla narrazione un po' degli aneddoti e delle particolarità che ci farà conoscere Rossini, uomo, Rossini persona pubblica piuttosto che solo compositore e musicista. L'evento sarà replicato ogni giorno ad orari diversi. Il 28 febbraio, 3, 4 e 5 marzo alle ore 17, il 2 marzo alle 21, il 1 marzo alle 10 per gli studenti. Un'occasione per scoprire Rossini così come per scoprire casa Perticari con le conseguenti visite guidate al palazzo. Passato tutti questi anni nel restauro, nel recupero e adesso sono i primi approcci con quella che è l'utilizzo pubblico, quantomeno sociale del palazzo. Stiamo allestendo anche tutti gli apparati necessari per la comunicazione e devo dire che è una cosa entusiasmante. Speriamo che sia una location che sia apprezzata anche da altri.